Viete vegetariani crudiste e rischio di sviluppare tumori. Ecco questo è il secondo video di questa serie sugli studi che condussi negli Stati Uniti su un gruppo di vegetariani, in particolare crudisti, nei primi anni della mia permanenza alla Washington University. Ho già fatto un video sugli aspetti cardiometabolici, questo invece sugli aspetti ormonali. Cioè sempre in questi soggetti abbiamo misurato dei fattori ormonali, dei fattori di crescita che sappiamo essere implicati nella patogenesi dei tumori più comuni. Allora fatemi velocemente vedere in tabella 2, vi descrivo la popolazione. Appunto sono persone, 21 persone che hanno una dieta crudista, vegetariana, quindi consumano verdure crude in grandissima varietà e quantità, frutta, cereali integrali, legumi germogliati, semi e frutta secca e parecchie calorie da avocado, noci, olio d'oliva extravergine. A questo gruppo ho aggiunto altri due gruppi per fare un cross-sectional, per comporare appunto in un studio cross-sectional queste 21 persone che hanno l'età media di 53 anni con due gruppi della stessa età, con la stessa proporzione di uomini e donne, che invece sono, che consumano tutti e due una tipica dieta americana, ma 21 sono dei corridori non professionisti, cioè persone dei, quelli come chiamate master athletes, che all'incirca percorrono dai 50 agli 80 chilometri settimanali e invece un gruppo di 21 persone sedentarie, ripeto, pareggiati per età e per sesso e anche i corridori per peso corporeo, per BMI, avete 21,3 al BMI, 21,1 dei corridori. Ok? Come già spiegato nel precedente video, ma velocemente lo ripeto, la dieta di questi crudisti è ipocalorica in circa 2000 calorie al giorno rispetto al 2600 del corridore del 2400 dei sedentari, un basso apporto proteico, o meglio normale, perché 0,8 grammi è quello che viene raccomandato da tutte le organizzioni mondiali, questi consumano intorno a 0,73 grammi di proteine per 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 chilogrammi di peso corporeo, quindi all'incirca il 9,3 per cento di calorie da proteine rispetto al 15 al 17 dei due gruppi di controllo. Una dieta ricchissima in grassi, paradossalmente 43 per cento di calorie da grassi, ma la maggior parte delle grassi sono mono e poli insato, cioè quelli buoni, mentre quelli cattivi, gli acidi grassi trans, quelli parzialmente indrogenati, quando sull'etichetta ricette parzialmente indrogenati, significa che sono grassi trans e che sono dannosissimi perché aumentano il colesterolo e l'infiammazione ed è anche più bassa la dieta di queste persone in acidi grassi saturi, che sono quelli prevalentemente della carne, ma non unicamente perché ad esempio anche l'olio d'oliva contiene una certa quantità di acidi grassi saturi. Quindi 7,7 rispetto a 9,6, 11,5, però guardate i monosaturi, 21 rispetto a 11,9, 12,8 e i trans sono veramente inesistenti, 0,2, 0,8, se uno mangia una dieta vera non ha acidi grassi saturi, invece la dieta americana tipica è ricchissima di queste sostanze tossiche, 5,9, 3,7 negli uomini e le donne. Le fibre sono anche molto molto più alte, le fibre dietetiche, 60 rispetto a 34, 35 negli uomini, 37 grammi al giorno nelle donne, 19, 19. Ok? Fatta la presentazione, adesso passiamo a, si dimenticavo, nella tabella 3 abbiamo anche i dati sulla composizione corporea misurata con la DEXA, con la MOC e come vedete sono, gli atleti sono molto più magri, 9% di massa grassa degli uomini, 21 nelle donne rispetto a 42, il doppio nelle donne sedentari e 21 negli uomini. I crudisti vegetariani sono a un livello intermedio. La massa grassa, la massa magra invece non è differente tra i gruppi, come ho già detto anche nel precedente studio. Ora guardiamo nella tabella 4 i livelli di questi fattori di crescita che sappiamo essere importantissimi per la patogenesi, per lo sviluppo e la progressione dei tumori più frequenti che vediamo nel mondo occidentale. Partiamo con l'IGF1, l'Insulin Growth Factor 1, che come vedete è molto più basso. Queste sono state bellissime perché la restrizione calorica nell'uomo senza riduzione delle proteine non riduce l'IGF1, l'abbiamo già pubblicato e dimostrato, invece questa dieta a basso livello di proteine e relativamente ipocalorica ha un effetto nel ridurre in maniera importante dell'IGF1, 139 nanogrammi ML rispetto a 177, 201. Anche il rapporto tra IGF1 e IGF-BP3, quindi l'IGF1 libero, è significativamente più basso nei vegetariani crudisti rispetto ai corridoi e sedentari. L'insulina anche, cioè il fratello gemello dell'IGF1, la sorella gemella dell'IGF1, è più bassa, 2,1, 2,8 micro unità ML rispetto a 5,9, il C-peptide che è una frazione dell'insulina anche più basso, 1, 1,2 rispetto a 1,9. Questo perché è importante? Perché noi sappiamo che quando l'IGF1 e l'insulina si legano al recettore dell'insulina e dell'IGF1 vanno a attivare la cascata del PI3 e KT pathway che inibisce FOXO e attiva MTOR e queste due pathway, FOXO e MTOR pathway, aumentano la proliferazione cellulare, riducono l'autofagia, riducono le capacità delle cellule di riparare il DNA perché inibiscono dei geni proteine di riparo del DNA e riducono le capacità antiossidanti delle cellule riducendo SOD, catalesis e di altri enzimi antiossidanti interni nelle cellule. Quindi sappiamo esattamente i meccanismi attraverso cui dei livelli allevati di IGF1 e di insulina promuovono alcune dei più frequenti forme di tumore, tra il resto promuovono anche invecchiamento perché l'insulina in IGF1 e ANTOR pathway, da quel che abbiamo dimostrato in diversi studi, è la via più importante nel promuovere invecchiamento accelerato. Quindi questa dieta vegetale crudista riduce in maniera significativa non soltanto l'insulina ma anche l'IGF1, riduce anche la leptina che è un altro fattore importantissimo prodotto dagli adipociti che ha un effetto nel sopprimere l'appetito ma anche un effetto importantissimo nel modulare la risposta immunitaria, più bassa la leptina, più bassa è l'infiammazione, la stimolazione di alcune sottocompartimenti nel sistema immunitario, soprattutto l'infociti T. E la proteina ciriattiva, non soltanto la leptina è più bassa nei crudisti, negli endurance, ma anche la proteina ciriattiva è 0,5 milligrammi litro, 0,65 rispetto a 2,61, quindi un drastico effetto antinfiammatorio sia dell'attività fisica che di questa dieta vegetale crudista. Ok, dati come detto importantissimi. Ah, dimenticavo di farvi vedere i dati, in queste persone abbiamo misurato anche la glicemia dopo un carico glicidico, l'insulinemia dopo un carico glicidico e vediamo che il Mazzuda Index, che è l'integrale tra l'area sotto la curva della glicemia e dell'insulinemia, è molto più basso e quindi l'insulinossensibilità è molto più alta negli atleti, lo sapevamo, questo l'attività fisica è potentissima nel migliorare l'insulinossensibilità, quindi 19,7 rispetto a 7,3 e questi crudisti hanno un livello intermedio, cioè 13,6. Allora andiamo a guardare invece il pannello ormonale. Voi sapete che sia il testosterone che gli estrogeni sono due ormoni anabolici che sono importanti per la funzione sessuale, per la riproduzione, ma sono anche importanti fattori anabolici, le iniezioni di testosterone, di steroidi nell'uomo per aumentare la massa muscolare. E sappiamo che sono importanti nel cancro, tanto è vero che per esempio il testosterone nella prostata, ma anche nella mammella e l'estradiolo nel cancro alla mammella, l'endometrio, probabilmente all'ovaio sono importantissimi, tanto è vero che soprattutto sia nella prevenzione primaria ma anche nella prevenzione secondaria della recidiva di cancro alla mammella o alla prostata si usano questi farmaci che causano una castrazione chimica, cioè riducono in maniera drastica i livelli di estrogeni circolanti di testosterone perché si è visto che questo riduce il rischio di recidiva. Quindi avere dei livelli più bassi, fisiologici, ma più bassi di testosterone estradiole è importante. Noi sappiamo che le diete occidentali tendono ad aumentare i livelli di testosterone estrogene attraverso diverse vie metaboliche che non ho il tempo di spiegarvi in questo video che ho già spiegato in parte in alcuni, sarete da cercarli e più avanti ve lo ripeterò in maniera più dettagliata. Comunque cosa vediamo in questo studio? Che il testosterone totale e gli estrogeni totali non sono differenti tra i tre gruppi, ma l'SHBG, cioè il trasportatore plasmatico del testosterone dell'astradiole, è molto più alto sia negli uomini che nelle donne, 2,57 nanomole litro rispetto a 205-164 significativo e nelle donne 4,40 3,23 176 altamente significativo, il che significa che se è più alto l'SHBG i livelli di biodisponibilità di testosterone libero e di estradiolo libero sono più bassi, quindi c'è meno binding del testosterone degli estrogeni sui recettori delle cellule e anche delle cellule tumorali. In effetti vedete che il free androgen index negli uomini è 7,8 rispetto a 9,8 12,6 significativo e anche il free estrogen è più basso sia negli uomini che le donne 22,5 rispetto 37,6 e 61,3. Quindi un importante effetto a largo spettro sia dell'attività fisica ma soprattutto della dieta vegetariana crudista che abbassa in particolare l'IGF-1 che lo fa soltanto appunto la dieta crudista è un effetto un pochettino più potente nell'abbassare gli estrogen, i free estrogen e soprattutto aumentare l'SHBG. Quello che vediamo, vedete in questa figura numero 2, è che più bassi sono i livelli di C-peptide, quindi di insulina e di IGF-1, più alti sono i livelli di SHBG, del trasportatore degli estrogeni, del testosterone che viene prodotto a livello epatico e questo conferma che l'insulinosensibilità, i livelli di IGF-1 e di insulina a livello epatico modulano la produzione di questo trasportatore, e quindi la biodisponibilità di testosterone e estrogeni. Quindi immaginatevi degli uomini e delle donne che fin da ragazzini hanno dei livelli più alti di insulina a IGF-1 e quindi promuovono l'invecchiamento e cancro, anche hanno dei livelli più bassi di SHBG e quindi più biodisponibile testosterone e estrogeni che a loro volta promuovono la proliferazione cellulare, l'instabilità genomica, riducono la pottosi di cellule mutate e riducono la capacità di riparo il DNA attraverso diverse vie di segnale. E con questo spero di aver ridato un quadro limitato ma abbastanza chiaro dell'effetto importantissimo delle modulazioni dietetiche e dell'attività fisica che quindi possono essere modulate nel singolo societto, quindi un medico esperto che ha queste conoscenze può utilizzare questi diversi strumenti per disegnare una dieta specifica per delle persone dopo aver misurato questi fattori e averne testato la significatività e la risposta del singolo individuo. Quindi richiede, non esiste una dieta che vada bene per tutti, ma le diete devono essere, e l'attività fisica, la combinazione di questi diversi interventi devono essere cuciti, come fa un sarto, sulla persona andando a studiare sia a livello basale qual è il suo profilo metabolico-ormonale e poi andando a misurare la risposta nel singolo soggetto di come diversi interventi vanno a modificare questi importanti fattori cardiometabolici, infiammatori immunologici e ormonali che sottendono molte delle patologie più comuni che vediamo nel nostro ospedale. E con questo vi ringrazio e vi saluto come sempre. Alla prossima!